ciao a tutti benvenuti al nuovo video di Samu97 in compagnia di Francesco Trentini il vostro famoso e più amato youtuber che adesso io ho creato il canale e adesso se voi andate su youtube e scrivete Francesco Trentini lo troverete ma lui si dovrebbe chiamare frank820 ma non c'era quindi ok ora oggi faremo Mario 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 si è Mario ok ok la prima partita la fa Francesco Trentini devi fare jump jump lui ok vai abbiamo saputo che è un po' bastardo appunto abbiamo saputo che è un po' bastardo questo gioco io sono campino a questo gioco si vede subito io l'ho disegnato pure quindi sono a posto ho paura una casa cade nel cielo ci scommettevo ci scommettevo ci scommettevo io ho saputo che questo cosa cosa mostra sempre delle sorpose come questo ok allora io devo stare sito però quando parlo vai 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 oh oh bene guardo insomma meno tra vite cioè ma è possibile perché adesso va così più di malavista cosa cosa ma basta cosa non riusciamo più a fare ecco 10 metri cosa basta ok non va più avanti ok bene già ci stiamo già ci stiamo incavolando quindi non è un bel segno ma non volano sempre un cavolo è lì postata per niente bravo 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 prendi quella bandierina o tu ciro no no CHEVOLO Mario ti mangio la sorella come i cinesi ti mangiano i gatti ti mangiano i gatti no ragazzi aiuto ok ok altro upload della velocità guardatelo 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 Oddio 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 le madonne Le madonne Ragazzi addio come Paolo è stato veloce Sono proprio un colpo Ora va piano Cioè delle volte che fa veloce Delle volte che fa piano Ok Ok Paura 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 Ok Ok Io sarò il di di Ah Oh Ok Ok io so che lì giù c'è una trappola Ci sto detto quindi la salto E ah Mi ricordo che cosa c'è Qua c'è il cubo E lì su Sotto non ci va Ma va piano Tanto ho preso la cosa La bandiera di merda Meno 12 Bene Meno 12 Ma babba Ma babba Ma è una parola ma babba Ok vai vai No Ma cos'è la mafia del mondo Questo gioco fa schifo Infatti Siamo ancora al primo livello Oddio Troppo Ho fatto scattare le trappole sono Però via No allora Guardate 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 Lo so che lì c'è Ok sto arrivando l'altra face Lo so che c'è il troll Belli No non ci sono Corri Ciao belli Ok qua Io devo saltare la bandiera ragazzi È impossibile Nooo No ho perso Devo scioltare la bandiera Ma c'è qualcosa che mi uccide sempre Che cos'è giallo Ragazzi aiuti Ragazzi aiuti Nooo Ormai non puoi piacere O muoi o muoi Devi sacrificarti Non lo fai un altro Mi sono sacrificata No Sono un cane Grazie ragazzi Culo Questo è culo Questo è culo Oggi ci siamo slocati Per hamburger c'è la droga Allora Oggi abbiamo fatto Oddio La super velocità di nuovo Dai 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 Ok bene C'è del Ok Allora Nel canale di Francesco Oggi abbiamo fatto un video Dove eravamo a Hollywood All'Hollywood dinner Eh ma andavamo lì Eh no Abbiamo preso Hollywood dinner Abbiamo preso Ma cos'è Ma come si fa Abbiamo preso un panino Con dentro la droga E ci siamo drogati Non stiamo sbattando No No Allora nel canale di Francesco Abbiamo fatto un video Dove Hollywood dinner Se volete vedersi Drogati E siamo lì Guardate Se non ci guardate Se non guardate il canale di Francesco Vi do una testata in faccia Se non vi guardate Se non vi guardate E prima testate il gatto E non è un ricatto Ma noi stiamo scherzando No no Ma cosa Ok questo video potrebbe durare anche dieci di minuti Perché Se noi non riusciamo a fare Almeno un livello Usciamo di testa No Se non riusciamo a fare Almeno un livello Usciamo di testa Ma come No Allora C'è due più due Fa cinque No No Allora Fammi un segno con le dita No fammi un segno Tipo un numero Quanto sono questi Due Quanto è cavolo di volte Secondo me se arriviamo A 949 milioni Di milioni Secondo me No Secondo me Secondo me Secondo me Arriva Arriva Pochetti Mario In casa mia E dice Mi avete rotto Le patole Ora Ma smettete di farmi morire 909 milioni Secondo me se noi giochiamo 909 milioni Di milioni A sto gioco Secondo me Vediamo la madonna Ma cos'è Ma cos'è Ma cos'è Ma cos'è Ma cos'è Meno 37 Abbiamo perso 37 38 Per la stessa La proagine La proagine Ok ora Dove Dove Direi di finirlo velocemente Sono allusine Video dura Tipo 500 anni E non si riesce a caricare Infatti L'idea è di farne un'altra Tampo Non ho fatto niente Dai No Dai L'usine Si dice Direi che il video potrebbe durare anche 999 milioni di anni Calmi ragazzi calmi Chi Oddio Calmi ragazzi calmi E qui si Esce Ma buona Come si fa Cosa A saltare quella bandiera Impossibile La fai andare avanti Ma Ok Chi Chi Tu Calma La proagine Vai avanti La proagine Vabbè Il bottone La proagine è bella Ok Si è morto Si vedeva Si vedeva Si vedeva Si vedeva Si vedeva Vabbè Ciao Ciao